Nonostante il mondo dell'industria e della metalmeccanica in particolare abbia continuato a produrre anche in tempi di lockdown, crisi aziendali e situazioni di allarme nella Venezia Giulia non mancano. A sottolinearlo, a partire dall'avvertenza Flex e dalle casse integrazioni in Varsila, il segretario locale della Wilm, Antonio Rodà. Io parto dalla Flex, che ci preoccupa e non poco. Stiamo continuando a chiedere un intervento delle istituzioni che ancora non arriva, nel senso che auspichiamo un intervento del Ministero dello Sviluppo Economico che ci avrebbe dovuto convocare, ma ad oggi ancora nulla e questo non va bene. Mentre c'è una cassa integrazione che sembrerà, almeno a quanto riportano i delegati sindacali, dovrà inaspirarsi ulteriormente nel mese di maggio, quindi con delle sorte di chiusure parziali di alcuni reparti, tutto questo ci preoccupa. Ci preoccupa la cassa integrazione alla Varsila, che ha uno scarico di lavoro, insomma, che loro quantificano temporaneo nei prossimi, nel mese di maggio e avanti nel mese di giugno. Poi la situazione di Fincantieri, non certo in crisi di ordinativi, ma che vive un momento di incertezza, condizionato dalla situazione pandemica. Fincantieri oggi non annuncia un quadro di crisi, tuttavia, se non riparte il mondo delle crociere, noi continuiamo, quando passiamo sulla superstrada e guardiamo sotto verso l'ex arsenale San Marco, vediamo cinque navi ormeggiate, diciamo. E questo è un segnale sicuramente non incoraggiante, perché quelle navi dovrebbero essere piene di passeggeri, navigare, sono navi nuove che sono state consegnate agli armatori e ormeggiate ancora lì. Dunque l'ex feriera, dopo le demolizioni, pare in stallo il piano di riconversione logistica, come comunicato alla triplice sindacale in un recente incontro con Arvedi e Icop. Nel quale ci hanno detto che c'è un problema, nel senso che le concessioni che dovrebbero essere rilasciate per poter fare andare avanti, diciamo, tutte le attività, oggi sono ferme al palo. Gli ordinativi per gli impianti dell'aria freddo che dovrebbero essere installati non sono ancora partiti, anche a fronte, diciamo, di questo ritardo delle cosiddette concessioni. Un appello a superare i nodi burocratici, quello del sindacato, per evitare che i lavoratori ormai in cassa integrazione da troppo tempo non siano destinati a rimanere ancora a casa. Facciamo in fretta perché è importante non arrivare al terzo anno di cassa integrazione. Il terzo anno di cassa integrazione sarebbe logorante per i lavoratori.